Una carrozza chiusa usciva dal giardino. Egli vide chinarsi al cristallo un volto di donna in atto di saluto, ma non lo riconobbe. Il palazzo levavasi dinanzi a lui, ampio, come una reggia. Le vetrate del primo piano brillavano di riflessi violacei. Sulla sommità indugiava un bagliore fievole. Dal vestibolo usciva un'altra carrozza, chiusa, se potessi vederla. Egli pensò soffermandosi. Rallentava il passo per prolungare l'incertezza e la speranza. La carrozza si fermò, e un signore mise il capo fuori dallo sportello, chiamando «Andrea!». Era il duca di Grimiti, un parente. «Vai dalla Scerni?» chiese colui con un sorriso fine. «Sì», rispose Andrea. «Prende le notizie. Tu sai, è malata. Lo so. Vengo di là. Sta meglio. Riceve?» «Me no. Ma potrà forse riceverte?» E il Grimiti si mise a ridere, maliziosamente, tra il fumo della sua sigaretta. «Non capisco», fece Andrea a serio. «Bada, si dice già che tu sia in favore. L'ho saputo ieri sera in casa Pallavicini, da una tua amica, te lo giuro. Andrea fece un atto d'impazienza, e si voltò per andarsene. «Buon chance!» gli gridò il duca. Andrea entrò sotto il portico. In fondo a lui la vanità godeva di quella diceria già sorta. Egli ora si sentiva più sicuro, più leggero, quasi lieto, pieno di un intimo compiacimento. Mentre saliva le scale gli cresceva la speranza. Giunto avanti alla porta, aspettò per contenere l'ansia. Suonò. Il servo lo riconobbe e disse subito, «Se il signor conte ha la bontà da attendere un momento, vado ad avvertire mademoiselle». Mademoiselle apparve dicendo, «La duchessa sta un poco meglio. Credo che il signor conte potrà passare un momento. Venga di grazia con me». Giunta dinanzi a una porta, che coprivano due bande di tappezzeria medicea, orlate di velluto rosso, e la si fermò dicendo, «Entro prima io ad annunziarla. Attenda qui, una voce di dentro». La voce di Elena chiamò, «Cristina!». Andrea si sentì tremarle vene, con tal furia, quel suono inaspettato, che pensò, «Ecco, ora vengo meno». Aveva come l'antiveggenza indistinta di una qualche felicità soprannaturale, superante la sua aspettazione, avanzante i suoi sogni, soverchiante le sue forze. Ella era là, oltre quella soglia. Ogni nozione della realità fuggiva dal suo spirito. Gli pareva ad avere un tempo, pittoricamente o poeticamente, immaginata una simile avventura d'amore, in quello stesso modo, con quello stesso apparato, con quello stesso sfondo, con quello stesso mistero. E un altro, un suo personaggio immaginario, n'era l'eroe. Ora, per uno strano fenomeno fantastico, quella ideal finzione d'arte confondevasi col caso reale, ed egli provava un senso inesprimibile di smarrimento. Mademoiselle uscì al fine. Tenendo sollevato con la mano il grave tessuto, disse a voce bassa, con un sorriso, «Può entrare?» e si scorse qualche cosa di rosso nell'ombra. Il damasco rosso delle pareti, i coltinaggi del letto, udì la voce stanca di Elena, che mormorava, «Vi ringrazio, Andrè, ad esser venuto. Sto meglio». Un poco esitando, poiché non vedeva distintamente le cose a quel lume fievole, s'avanzò fino al letto. Ella sorrideva col capo affondato sui guanciali, supina, nella mezz'ombra. Una immensa tenerezza invase il cuore del giovine quando la vide da presso. Elena trasse fuori una mano e gliela tese, con un gesto assai lento. Egli si chinò, quasi in ginocchio, contro la proda del letto, e si mise a coprir di baci rapidi e leggeri quell'avano che ardeva, quel polso che batteva forte. «Elena, Elena, mio amore!» Elena aveva chiuso gli occhi, come per gustare più intimamente il rivo di piacere che le saliva pel braccio, e le si effondeva a sommo del petto, e le si insinuava nelle fibre più segrete. Volgeva la mano sotto la bocca di lui per sentire i baci sulla palma, sul dorso, tra le dita, intorno al polso, su tutte le vene, in tutti i pori. «Basta!» Morborò riaprendo gli occhi e con la mano che le parve un po' intorpidita sfiorò i capelli d'Andrea. In quella carezza, così tenue, era tanto abbandono che fu sull'anima di lui la foglia di rosa sul calice colmo. La passione traboccò. Gli tremavano le labbra sotto l'onda confusa di parole che egli non conosceva, che gli non proferiva. Aveva la sensazione violenta e divina, come d'una vita che si dilatasse, oltre le sue membra. «Che dolcezza! È vero!» disse Elena sommessa, ripetendo quel gesto blando, e un brivido visibile le corse la persona, attraverso le coperte pesanti. Poiché Andrea fece l'atto di prenderle di nuovo la mano, ella pregava «No, così! Resta così! Mi piaci!» Premendogli la tempia, lo costrinse a posare il capo sulla sponda, per modo che egli sentiva contro una guancia la forma del ginocchio di lei. Lo guardò, quindi, ella un poco, pur sempre accarezzandogli i capelli, e con una voce morente di delizia, mentre le passava tra cigli qualche cosa come un baleno bianco, soggiunse, allungando le parole. «Quanto mi piaci!» Un inesprimibile allettamento voluttuoso era nell'apertura delle sue labbra, quando pronunziava la prima sillaba di quel verbo, così liquido e sensuale, in bocca una donna. «Ancora!» murmurò l'amante, cui sensi languivano di passione, alla carezza delle dita, alla lusinga della voce di lei. «Ancora! Dimmi! Parla! Mi piaci!» ripeteva Elena, vedendo che gliela guardava fiso nelle labbra, e forse conoscendo il fascino che la emanava con quella parola. Poi tacquero ambe due. L'uno sentiva la presenza dell'altra fluire e mescersi nel suo sangue, finché questo divenne la vita di lei, e il sangue di lei la vita sua. Un silenzio profondo ingrandiva la stanza. Il crocifisso di Guido Reni faceva religiosa l'ombra dei cortinaggi. Il rumore dell'urbe giungeva come il murmure di un flutto assai lontano. Allora, con un movimento repentino, Elena si sollevò sul letto. Strinse fra le due palme il capo del giovine, la tirò, gli alitò sul volto il suo desiderio, lo baciò, ricatte, gli si offerse. Dopo una immensa tristezza la invase. La occupò l'oscura tristezza che è in fondo a tutte le felicità umane, come alla foce di tutti i fiumi. È l'acqua amara. Ella, giacendo, teneva le mani fuori della coperta, abbandonate lungo i fianchi, le mani supine, quasi morte, agitate di tratto in tratto da un lieve sussulto. E guardava Andrea con gli occhi bene aperti, con uno sguardo continuo, immobile, intollerabile. A una a una le lacrime incominciarono a sgorgare, e scendevano per le gote, a una a una, silenziosamente. — Elena, che hai? Dimmi, che hai? Le chiese l'amante prendendole i polsi, chinandosi a suggerle dai cigli le lacrime. Ella stringeva forte i denti e le labbra, per contenere il singulto. Nulla. Addio. Lasciami, ti prego. Mi vedrai domani. Va. La sua voce e il suo gesto furono così supplichevoli che Andrea obbedì. Addio. Addio. E gli disse. E la vaciò in bocca teneramente, provando il sapore delle stille salse, bagnandosi di quel caldo pianto. Una felicità piena, obliosa, libera, sempre novella, tenne ambedue dopo dall'ora. La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento immediato. Ambedue, mirabilmente formati nello spirito e nel corpo, all'esercizio di tutti i più alti e più rari diletti, ricercavano senza tregua il sommo, l'insuperabile, l'inarrivabile, e giungevano così oltre che talvolta un'oscura inquietudine li prendeva pur nel colmo dell'oblio. Quasi una voce d'ammonimento salisse dal fondo dell'esser loro, ad avvertirli di un ignoto castigo, di un termine prossimo. Dalla stanchezza medesima il desiderio risorgeva più sottile, più temerario, più imprudente, come più si inebriavano, la chimera del loro cuore ingigantiva, s'agitava, generava nuovi sogni. Parevano non trovar riposo che nello sforzo, come la fiamma non trova la vita che nella combustione. Talvolta una fonte di piacere inopinata aprivasi dentro di loro, come balza ad un tratto una polla viva sotto le calcagna di un uomo che vada all'avventura per l'intrico di un bosco, ed essi vi bevevano senza misura finché non l'avevano esausta. Talvolta l'anima, sotto l'influsso dei desideri, per un singolar fenomeno d'allucinazione, produceva l'immagine ingannevole di un'esistenza più larga, più libera, più forte, oltrapiacente. Ed essi vi si immergevano, vi godevano, vi respiravano, come in una loro atmosfera natale. Le finezze e le delicatezze del sentimento e dell'immaginazione succedevano agli eccessi della sensualità. Ambe due non avevano alcun ritegno alle mutue prodigalità della carne e dello spirito. Provavano una gioia indicibile a lacerare tutti i veli, a palesare tutti i segreti, a violare tutti i misteri, a possedersi fino al profondo, a penetrarsi, a mescolarsi, a comporre un essere solo. Che strano amore, diceva Elena ricordando i primissimi giorni, il suo male, la rapida dedizione. Mi sarei data a te la sera stessa che io ti vidi. Ella ne provava una specie d'orgoglio. E l'amante diceva, quando udì quella sera annunziare il mio nome accanto al tuo, sulla soglia, ebbi non so perché la certezza che la mia vita era legata alla tua. Per sempre. Per essi Roma si illuminava di una voce novella. Ovunque passavano lasciavano una memoria d'amore. Le chiese remote dell'Aventino, Santa Sabina sulle belle colonne di marmo pario, il gentil verziere di Santa Maria del Priorato, il campanile di Santa Maria in Cosmedin simile a un vivo stelo roseo nell'azzurro. Conoscevano il loro amore. Le ville dei cardinali e dei principi. La villa Panfili, che si rimira nelle sue fonti e nel suo lago, tutta graziata e molle. La villa Albani, fredda e muta come un chiostro, selva di marmi effigiati e museo di bussi centenari. E la villa Medici, che pare una foresta di smeraldo ramificante in una luce soprannaturale. E la villa Ludovisi, un po' selvaggia, profumata di viole. Tutte le ville gentilizie, sovrana gloria di Roma, conoscevano il loro amore. Le gallerie dei quadri e delle statue. La sala borghesiana della Danae, dinanzi a cui Elena sorrideva, quasi rivelata. E la sala degli specchi, ove l'immagine di lei passava fra i putti di Ciro Ferri e le ghirlande di Mario dei Fiori. La camera dell'Eliodoro, prodigiosamente animata dalla più forte palpitazione di vita che il Sanzio abbia saputo infondere nell'inerzia di una parete. E l'appartamento dei Borgia, ove la grande fantasia del pinturicchio si svolge in un miracoloso tessuto di storie, di favole, di sogni, di capricci, di artifici e di ardiri. La stanza di Galatea, per ove si diffonde non so che pura freschezza e che serenità inestinguibile di luce, e il gabinetto dell'Ermafrodito, dove lo stupendo mostro nato dalla voluttà di una ninfa e di un semidio, stende la sua forma ambigua tra il rifulgere delle pietre fini. Tutte le solitarie sedi della bellezza conoscevano il loro amore. E la scala della Trinità, glorificata dalla lenta ascensione del giorno, era la scala della felicità per l'ascensione della bellissima Elena Muti. Elena, spesso, piacevasi di salire per quei gradini al buon retiro del palazzo Zuccari. Saliva piano, seguendo l'ombra, ma l'anima sua correva rapida alla cima. Ben molte gaudiose ore misurò il piccolo teschio d'avorio dedicato a Ippolita, che Elena talvolta accostava all'orecchio con un gesto infantile, mentre premeva l'altra guancia sul petto dell'amante, per ascoltare insieme la fuga degli attimi e il battito di quel cuore. Andrea le pareva sempre nuovo. Talvolta ella rimaneva quasi attonita, dinanzi all'infaticabile vitalità di quello spirito e di quel corpo. Talvolta le carezze di lui le strappavano un grido, in cui esalavasi tutto il terribile spasimo dell'essere, sopraffatto dalla violenza della sensazione.